Tutto pronto, a parte il match Galacticos contro Clippers, tante individualità in campo, molte fuori dal campo Ma quello fatte questo? Non ti ho schifoso, Sergio e Max sono l'escrizione Sergio e Max sono la campagna Occhio azzurzo lo che ruba palla, che fa? Prova di, prova a piazzare Ma sempre sono due tuoi su Eh, ho capito, però è come se non avessi pagato nulla Cioè diciamo che rispettate la presa, ma è lui Che qualcuno diceva che la fai dopo sopra Caldo, non riusci, ti provo, è incredibile, come Balotelli Infatti sì, sta scritto Però la gente non si documenta Mamma mia Alberoni, bucciaroni, peperoni Sei per me Il numero uno Vantaggio galactico Sbucciaroni, speperoni Luca, tu qualche volta con la squadra forte Scevola da solo Eh sì 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 Il gaudio Occhio a contropiede, spinto da Di Silvestre Ancora Di Silvestre Di Silvestre Alla fuori Di Silvestre Alla fuori Occhio a Zurzolo, Zurzolo Occhio a Stolo Nesi Con i pezzullo Non l'ho messo Nooo Senta un attimo Non lo facciamo Nanno, vant'io, vant'io, vant'io Vant'io Di Silvestre, più bel gade, più ce ne ho vant'io Di Silvestre Di Silvestre Alberoni ancora Eeeeee Silvestre con devi azione Angelis provo ad andare in anticipo Imposto io il video E lo metto al massimo Perché devi giocare la porta contro di me Vabbè in mano a qualcuno Uè Gabri Del Gaudio Caldore ZURZOLO Sotto l'incrocio Che gol dei Clippers Leo Zurzolo Pareggio Attenzione del Gaudio Finisce qui il primo tempo Partita la ripresa 1 a 1 Tra Galacticos e Clippers Occhio a Zurzolo Che potrebbe andare All'attacco Bravo Antonio Bravo Antonio Bravo Rouge Palo Sfortunatissimo come Izelinski Ieri poi Caldore non riesce a ribadire Del Gaudio Ruba perde palla Alberoni di naso La porta è vuota Ma Giacchetti sbaglia Non ne approfitta Che bluff Sellitto per Zurzolo Zurzolo con la punta Nesi 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 Buccia Nesi A Buccia del Beroni Risponde Buccia di Nesi Vantaggio Clippers Sinistra 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 Buccia Mamma che gol Direttamente su calcio di punizione Con l'esterno Di De Angelis Che gol 2 a 2 Ma chi state? 2 eh? Calma Ok bravo E Valomba? Ah ok Udrugge 1 contro 0 Udrugge Vantaggio Clippers Da centravanti vero Il gol Del Gaudio Prova a salire Del Gaudio Si accenta Del Gaudio Verticale Zurzolo Con il tacconesi Si riscatta 2 più recupero Si va bene Con l'albero Giacchetti Impatta di prima E va a segnare il pareggio del Galacticos 3 a 3 Fiscia Risca Fiscia Fiscia Tracca Per il resto Di Silvestre Almeroni ruso se ne va risalta tutti udrugio piacere personale di udrugio e finisce qui 3